La con dieresi X A con dieresi T1 La con dieresi X A con dieresi T1 La con dieresi X T T punto esclamativo rovesciato copyright news 1 Barra rovesciata con dieresi E T islandese a con dieresi T1 T A O E 17 barra verticale punto esclamativo rovesciato tvnl a con dieresi X P esponente 1 E T islandese apostrofo. 8 E apostrofo. La con dieresi X A con dieresi T1 O E T islandese T0 O E chiocciola H O barrata A con con accento acuto negazione apostrofo di O con accento circonflesso uguale minore di P, O con accento circonflesso 1 minore di E T islandese di A con dieresi minore di P A con dieresi barra rovesciata negazione AX DO con accento circonflesso I 8 di L E A con dieresi. A apostrofo 4 barra 8 barra 4 barra. . . Barra rovesciata barra rovesciata u con dieresi A con dieresi T1 Chiocciola a chiocciola MN con tilde u con dieresi H O barrata E uguale U con con accento grave A con dieresi, 1 barra 4 uguale barra rovesciata. Esclamativo rovesciato WT islandese 8 I A con dieresi. Grazie per la visione!